Ciao a tutti amici del triple! Oggi vi portiamo la nuova Paul George 6 Un'ottima, ottima, ottima scarsa ragazzi La proviamo! Ingresso facilissimo Per quanto riguarda l'imbottitura super morbida Abbiamo una tomaia in mesh con, secondo me, dell'aggiunta di nylon Sulla ammortizzazione siamo andati sul react Quindi non abbiamo più l'aria e neanche lo zoom Molto avvolgente E ragazzi è veramente una bella scarpa L'abbiamo anche pesata come al solito E siamo all'incirca sui 320 grammi